Salve, sono Alessio della concessionaria Fly Camper e sono a presentarvi un nostro veicolo usato ex noleggio della casa costruttrice Roller Team. Il modello è T-Line 255S montato su Fiat 2.3 130 CV. Il veicolo è un semi integrale con letto masculante, letto da francese posteriore e zona giorno living. Ha 4 posti letto ed è omologato 4 posti per viaggiare. L'anno di matricolazione è 2014. Come accessori ha eclimatizzatore in meccanica, frigorifero 150 litri, retrocamera posteriore con schermo LCD e l'oblò panoramico Skyview. La scuola è un'estitica, è un'estitica. L'anno di casa è un'estitica, è un'estitica, è un'estitica, è un'estitica. Grazie a tutti. 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 Venite a trovarci a Figline Valdarno vicino Firenze. Grazie a tutti.